Circa 580 vaccini somministrati tra sabato e domenica presso il nuovo hub vaccinale La Locomotiva di Castrovillari. La struttura, lo ricordiamo, è stata inaugurata sabato scorso grazie alla sinergia Aspe di Cosenza, Comune, Croce Rossa, Protezione Civile, Associazioni di Volontariato, ANAS per il locale e la disponibilità del Presidente Ruggero Altimari, le Ferrovie della Calabria e Presidente Aristide Vercillo per lo spazio esterno, l'Ufficio di Protezione Civile per l'acquisto delle dotazioni informatiche ed altri beni nella persona del responsabile Roberto Amari, la Gas Pollino per alcuni strumenti con il Presidente Antonio Viceconte, la Pollino Gestione e Impianti per Diversi Lavori e il Presidente Vincenzo Esposito, la GLF Stampa di Castrovilla, liquidata da Marilena Ciancio e Lello Garofalo, che ha curato le stampe grafiche del centro vaccinale e ha offerto anche 500 mascherine FFP2. Ben 400 le inoculazioni che verranno effettuate giornalmente, ma si punta a lavorare 1600 dosi settimanali, per ora si somministra solo AstraZeneca. Sindaco, invece per quanto riguarda l'approvvigionamento dei vaccini, ecco, come siete organizzati? Ma, ripeto, questo è un centro sanitario, quindi tutto avviene sotto legge del distretto sanitario. Fanno le richieste e sulla base appunto delle richieste ci sono le prenotazioni. Questa è una fase in cui i vaccini ci sono, ecco perché è possibile prendere le prenotazioni. E mi auguro che questo approvvigionamento sia continuo, perché sono disponibili vaccini a AstraZeneca, mai è arrivato Pfizer e sono disponibili già Johnson & Johnson che è arrivato e c'è anche Moderna. Quindi, diciamo, la disponibilità nell'intera Calabria c'è, ma viene gestita sempre dal servizio sanitario.